Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove ci sono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici in entrambe le direzioni. Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A1, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Sassomarconi e in Cisareggiello e sulla variante di Valico e in A11 e in FIPILI lungo tutto il percorso. Per la viabilità cittadina a Firenze in via Senese, per lavori all'altezza dei civici 93 e 95, restringimento di carreggiata con divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,80 m. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!